erano uniti dall'amore da nove anni rimarranno insieme anche nell'ultimo saluto di familiari parenti e amici e di tutte le persone che hanno trepidato per loro pur non conoscendoli si svolgono oggi nella chiesa di santa maria maggiore a vasto le esequie funebri di jessica tinari la ventiquattrenne morta sotto le macerie dell'hotel rigopiano travolto il 18 gennaio da una valanga pesante 120.000 tonnellate come 4.000 tir a pieno carico a vasto dove il sindaco francesco menna indetto il lutto cittadino insieme al feretro di jessica aggiunge anche quello di marco tanda il suo fidanzato 25enne il 2017 appena iniziato sarebbe stato il nono anno di una storia d'amore cominciata quando erano adolescenti e proseguita con gioia fino alla valanga dell'albergo di farindola per loro non era il primo soggiorno all'hotel rigopiano e al suo ritorno jessica era attesa da un colloquio per un lavoro da estetista la sua passione la professione per la quale a luglio si era specializzata ora vasto vuole salutare entrambi il feretro di marco infatti dopo una breve sosta davanti alla chiesa di santa maria maggiore ripartirà per castellarai mondo in provincia di macerata dove la comunità del suo paese d'origine si stringerà in un unico abbraccio attorno ai familiari dalla chiesa del borgo antico di vasto partirà il loro ultimo viaggio